brevissima aggiunta veloce, siccome nell'altro video mi sono dimenticato di pubblicizzare stavo dimenticandomi di pubblicizzare anche in questo questa volta desidero pubblicizzare un canale con cui non ho mai collaborato però nulla pieta che possa succedere anzi spero di collaborare con tutti il canale che pubblicizzerò oggi è il canale della ro scritto con hashtag quindi hashtag la ro di cui vi lascerò il link nel box info perché come promesso voglio pubblicizzare un canale a video e siccome l'altra volta mi sono dimenticato questa volta pubblicizzeremo la ro ciao a tutti i colors e benvenuti in questo nuovo video questo video sarà un tag dopo tanto tempo un tag che ho deciso di far salire sulle classifiche della mia programmazione perché è molto interessante per me innanzitutto per me che ho sempre sottolineato 250 milioni di volte di non voler fare un canale di tag e poi penso sarà anche per voi perché ho notato che nel video sulla mia spiritualità dove accenno comunque sia anche alla reincarnazione c'è stato un interesse inaspettato che appunto non immaginavo minimamente stavo per dire che mi aspettavo come sarebbe stata la ripetizione e quindi un motivo in più per decidere di far salire questo tag nella programmazione parecchio più in alto di quello che sarebbe potuto essere quindi iniziamo a parlare un attimino del tag il tag è stato ideato da Morgana mentre io sono stato taggato da Monica Spicciani Art Arasule Morgana non ha un canale ma ha una pagina Facebook che vi lascerò linkata in descrizione per quanto riguarda Monica che saluto perché ci seguiamo ormai da un annetto credo il canale che vi ho linkato non è il suo unico canale ne ha due Monica Spicciani Art Arasule è quello prettamente artistico dedicato alla sua attività di pittrice dove comunque emette video diversi dal suo canale principale mentre il suo canale principale riguarda l'SMR di cui almeno tutti una volta avrete sentito parlare io ve li metto tutti e due se non vi piace l'SMR senza mettere critiche che non servono a nessuno ignorate il suo canale SMR e passate magari soltanto nel canale Monica Spicciani Art Arasule io avrò già parlato per un tempo considerevole quindi direi che è arrivata l'ora di iniziare con il tag però guardate il video fino alla fine perché ho delle comunicazioni da fare alla fine domanda numero 1 se dovessi scrivere un racconto verosimile sulla tua o sulle tue vite passate quante volte immagini di essere vissuto? non posso immaginare quante volte però sicuramente almeno una di cui parlerò nelle prossime domande con quale criterio immagini che la tua anima si sia reincarnata per sopperire a qualcosa che non si è imparato per farti rimediare degli errori commessi o per continuare qualcosa di incompiuto? raccontalo io penso di aver vissuto almeno la vita di una persona che si è tolta la vita sicuramente e ne parleremo quindi siccome la morte non naturale è una morte carmicamente brutta per forza io sono nato avendo una vita difficile in una famiglia a dir poco difficile e non intendo minimamente ripetere il gesto non perché non ci sarebbero i motivi per essersi rotti le scatole ma perché non voglio fare una nuova e brutta morte carmica se qualcuno ha addrizzato i peli sentendo parlare di togliere la vita potete respirare dov'è che si sarebbe reincarnata la tua anima? stato, regione, città se immagini che posso essere caduto più di una volta descrivi anche più luoghi allora la persona in cui penso di essermi reincarnato con una certa sicurezza era americano se non sbaglio io non sto leggendo la biografia magari correggerò in fase di editing se non sbaglio era americano però io ho, come dire sviluppato due altri grandi amori che non hanno a che fare con questa vita uno di questi amori è lo spagnolo quindi sicuramente in qualche vita avrò vissuto in Spagna un altro amore è quello per Roma io amo Roma sono innamorato di Roma e se non potrò vivere all'estero un sogno alternativo molto sentito sarebbe quello di vivere a Roma e non c'è un motivo particolare quando si sarebbe reincarnata la tua anima epoca, anno, periodo, eccetera se immagini che posso essere caduto più di una volta descrivi anche più epoche allora io per questione di brevità ne descriverò una sola che è quella con cui mi tornano più cose ecco partiamo da una foto comparativa di me a 23 anni a cui è stato applicato solo un effetto seppia però il mio volto non è stato modificato spero che mi crediate sulla parola confrontata con la foto di Alan Madison Turing che è uno dei padri dell'informatica foto scattata all'età di 16 anni bene secondo me intanto la somiglianza è importante però non è l'unica cosa che mi accomuna Alan Madison Turing era omosessuale ed è sono convinto che sia un discorso di nascita e che non ci si diventi perché è una cosa che ho vissuto io quindi dire che ci si diventi è preso che assurdo semmai ci possono essere persone che lo riaprimono di più altra cosa io all'età di 12 anni ho fatto una serie di visite per un centro di riabilitazione uno di queste erano degli incontri con un neuropsichiatra infantile il quale ha calcolato un quoziente intellettivo di 168 punti se voi considerate che per essere considerati intelligenti dovete avere un quidio di 130 io secondo questo neuropsichiatra avrei un quoziente intellettivo di 168 che è proprio se volete di un informatico di un matematico anche se la cosa strana è che io ho una mente più umanistica non sono mai stato portato per la matematica e se vedete i miei vecchi video già lo saprete se avete visto i miei vecchi video un'altra cosa non prettamente comune di per sé che mi fa pensare all'essermine incarnato in questa persona ce ne sono ancora due una questa è un'altra un'altra cosa è appunto come avevo già accennato prima il fatto che secondo le fonti più quotate sarebbe morto suicida che non è una morte karmicamente positiva spiegherebbe il fatto di essere rinato in condizioni fisiche non non perfette non belle e in una situazione familiare non bella di cui non specifico ero altro l'ultima cosa che mi tiene accomunato secondo me a questa persona è collegata con il fatto che quando questa persona era viva sussisteva il reato di omosessualità e non avendo molte alternative Turing si è sottoposto alla castrazione avvenuta attraverso l'assunzione di estrogeni quindi il suicidio secondo le fonti biografiche sarebbe dovuto al fatto che non accettava l'idea di diventare lentamente una donna in quanto stava bene nel suo corpo perché penso che questo sia un quellante penso che questo sia un quellante perché ho diverse conoscenze fra ragazzi uomini transessuali e transgender e queste persone mi hanno detto che sono uno dei pochi maschi biologici anzi una delle poche persone biologiche in generale soprattutto da parte maschile che difendono in maniera quasi accanita la causa delle persone transessuali transgender e non penso che questa vicinanza sia dovuta solo esclusivamente alla mia al mio essere gay perché comunque ci sono tante persone eterosessuali che fortunatamente supportano la causa delle persone transessuali mi raccomando non facciamo l'errore di confondere orientamento sessuale e identità di genere di genere perché essere trans o transgender riguarda l'identità di genere essere etero bisex gay eccetera eccetera riguarda l'orientamento sessuale domanda numero 5 saresti stato un uomo o una donna se immagini che ti possa essere reincarnato più di una volta descrivilo allora una volta qualche volta sicuramente è un uomo almeno una volta un uomo che è quella che ho appena descritto però secondo me qualche volta anche una donna perché comunque sia non è il voler ragionare per stereotipi però in linea di massima la sensibilità riguarda un lato femminile che tutti abbiamo distintamente uomini e donne e cosa la cosa mi fa pensare che in qualche altra vita sono stato una donna sarei stata una persona ricca o povera e come avresti raggiunto questa condizione economica allora secondo me vedendo quanto faccio fatica ad uscire da una condizione economica precaria in qualche vita sono stato sicuramente ricco o ricca però secondo me ho avuto anche delle vite da povero o da povera avresti abitato scusate scendo giù avresti abitato in campagna in montagna in colline in una zona marittima o in città secondo me sia al mare sia in città le altre non mi dicono nulla con quali influenti personaggi saresti venuto a conoscenza o solo a contatto ma non saprei non non mi viene in mente nulla come saresti morto uno più volte che immagini a che età allora adesso non vi spaventate perché io ho deciso di rispondere a questa domanda io penso penso che almeno una volta devo essere molto impiccato perché io non sopporto che mi si metta le cose in testa senza dirmelo senza avvertirmi anche se per scherzo mi fa venire una rabbia incredibile quindi penso che almeno una volta devo essere molto impiccato l'età non lo so l'età non ne ho idea domanda numero 10 descrivi una giornata tipica nel tuo immaginario passato non lo so oppure nei tuoi immaginari passati non lo so sicuramente devo avere avuto una qualche vita frenetica ve lo dico molto brevemente perché perché adesso non sopporto di di stare senza far nulla però essendo una persona quasi completamente disoccupata e con una vita sociale molto limitata mi annoio facilmente con chi ti saresti sposato a che età descrivile che sia accaduto una più volte non ne ho idea non ne ho idea diciamo che questa domanda la potrei saltare domanda numero 12 quanti figli avresti avuto a che età sicuramente tanti sicuramente tanti magari nella mia vita femminile vi dico questo perché adesso non è che non mi piacciono i bambini attenzione se dovessi lavorare con i bambini ci lavorerei però non le voglio assolutamente di miei e non credo che abbia nulla a che vedere con la mia omosessualità non li vorrei manco se fossi etero anzi da questo punto di vista mi viene quasi da dire meno male che sono che sei stata una persona religiosa politeista monoteista buddista eccetera non lo so non trovo collegamenti con questa domanda trovo collegamenti particolari con questa domanda come ti saresti chiamato non lo so non mi viene in mente nulla scusate sono più quelle che salto di quelle a cui rispondo quali persone o problemi avrebbero causato rabbia frustrazione rammarica o tristezza sicuramente la prevaricazione la prevaricazione è una cosa che io non sopporto avere a che fare con con persone che hanno metaforicamente il coltello della parte del manico ultima domanda poi non dirò un po' più in quale epoca ed in quale luogo pensi che la tua anima non avrebbe mai potuto abitare in un luogo isolato perché sì ho i miei momenti dove mi piace stare da solo però non sono momenti che durano moltissimo a un certo punto mi piace essere con la gente però la gente che dico io allora adesso taggo molto velocemente perché me li ero preparati e poi vi prego statemi a sentire perché ci sono dei cambiamenti importanti uno non tanto bello uno un po' più bello allora vorrei che questo video venisse fatto dal mio caro fratello Aristide Colussi poi mi piacerebbe vederlo fatto da Sontina F che per quello che ti conosco mi sembra di aver capito che sei piacevolmente curioso su questo argomento quindi se vuoi rispondere al tag io ho piacere so che sei impegnata perlomeno mentre sto girando il 2 febbraio quindi fallo con calma non ti preoccupare poi vorrei taggare sorellina Valentina ciao ti saluto cercherò di farti avere questo video in qualche modo perché so so che tu sei di corsa alla regressione quindi potresti sicuramente rispondere in maniera più precisa di me a queste domande che sarebbe una cosa interessante ascoltarti e infine vorrei taggare l'ultima persona che è Sara del canale l'angolo degli arcani dunque io ho finito di taggare mi ascoltate qualche altro minuto grazie quella brutta è che non riesco più ad accedere al profilo instagram che tutti seguite probabilmente al momento di pubblicazione di questo video ne avrò già creato un altro cosa che farò adesso a breve guardate le info non solo per i canali che vi ho citato qualora vogliate visitarli ma anche eventualmente per vedere il mio nuovo account instagram che nel frattempo dovrei aver creato l'altra cosa monica già lo sa perché mi segue già approfitto di questo tag per dire che ho creato un secondo canale solo smr siccome su questo canale so che sono pochissime le persone che apprezzano l'smr non vi romperò più con i video smr su questo canale ho fatto un secondo canale di solo smr e nei commenti si nei commenti 13 nel box info vi metto anche quello detto questo io vi saluto davvero vi ricordo però prima se volete di iscrivervi al canale qualora non siate ancora iscritti di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo